L'incontro con il premier giapponese Shinzo Abe e il corpo diplomatico, ultimo momento dell'intensa giornata del Papa nel paese nipponico alla vigilia del rientro in Vaticano, in programma domani. Il colloquio è avvenuto presso la sede dell'esecutivo a Tokyo e ha toccato diversi temi, a cominciare dall'importanza del dialogo. Francesco ha ribadito che questa è l'unica arma per una pace e duratura anche sul fronte del nucleare, una questione che bisogna affrontare a livello multilaterale, promuovendo e favorendo tutte le mediazioni dissuosive necessarie affinché ha ribadito, mai più nella storia dell'umanità, si ripeta la distruzione operata dalle bombe atomiche a Hiroshima e Nagasaki. Il Papa ha quindi sottolineato che la civiltà di una nazione o di un popolo non si misura attraverso il suo potere economico. Serve dedicare attenzione ai più bisognosi e alla difesa della nostra casa comune, seguendo un approccio integrale. Questo, ha spiegato, vuol dire affrontare il crescente divario tra ricchi e poveri in un sistema economico globale che consente a pochi privilegiati di vivere nell'opulenza, mentre la maggioranza della popolazione mondiale vive nel disagio. Infine, un riferimento alle Olimpiadi che si terranno l'anno prossimo a Tokyo. Sono certo, ha concluso il Papa, che l'appuntamento costituirà uno stimolo per far crescere lo spirito di solidarietà anche al di fuori dei confini nazionali.